C'è attesa per sapere chi sarà la giudicatario della sede del Gemelli Molise, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e molti i gruppi interessati. Prosegue la scalata all'immunizzazione di massa lungo la penisola, preoccupa ora la situazione del personale scolastico, in molti ancora senza la prima dose. Domani a Diserni al via la prima edizione della giornata internazionale del Merletto, evento previsto dalla Fontana Fraterna alla Chiesa di Santa Maria delle Monache. Con il campo basso calcio giunto ormai in Serie C, la società guarda al futuro fra nuovi soci, sponsor e l'avvio della campagna degli abbonamenti. Ben ritrovati gentili telespettatori con questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT. Come avete sentito dai titoli, apriamo parlando di sanità. C'è attesa per il nome dell'aggiudicatario della struttura del Gemelli Molise. La decisione sarà ratificata nell'arco di qualche giorno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Romana, ma andiamo ad ascoltare insieme. Dopo la scadenza per la presentazione delle domande riguardo la vendita della struttura del Gemelli Molise, c'è attesa. Fra qualche giorno il nome dell'aggiudicatario, a seguito di una lunga analisi dei concorrenti che si sono presentati per aggiudicarsi la sede. Al momento le offerte più appetibili, secondo Rumors, sembrano essere quelle delle grandi attività dei gruppi sanitari come l'Humanitas o il Neuromed, entrambi proprietari già di numerose strutture in tutta Italia, insieme al gruppo Pegasol, l'Università Telematica. C'è riservo sulla vendita della proprietà nata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore dell'Istituto Giuseppe Tognolo. Il tentativo della Regione Molise di diventare proprietaria non è dunque andato a buon fine e a breve si conosceranno i nomi degli imprenditori interessati all'acquisto. C'è preoccupazione in questi giorni, sia il mondo della politica che della Chiesa avevano manifestato timore per tale vicenda. Ancora una volta si teme per le sorti della sanità molisana, sia pubblica che privata. Il Gemelli, ricordiamo, in questi duri mesi di pandemia ha offerto il suo appoggio per la lotta contro il virus e si spera che in futuro si possa continuare così ad utilizzarlo come risorsa per il territorio. Parliamo adesso di vaccini. Prosegue la scalata all'immunizzazione di massa, ma resta il timore per il mondo della scuola. 223 mila lavoratori del settore sono ancora senza dose vaccinale. Dalla capitale si aprono i dibattiti in vista del nuovo anno scolastico. Ascoltiamolo insieme. Prosegue senza sosta la scalata lungo la penisola all'immunizzazione di massa. Le enucolazioni sono l'unica speranza per scongiurare nuove chiusure e limitazioni in autunno. In Molise è sempre bene, ma la chiusura del centro vaccinale dell'Università degli Studi del Molise preoccupa circa un possibile rallentamento del sistema. È essenziale, hanno detto i comitati tecnici scientifici, in questi giorni completare il ciclo vaccinale. Questo anche in vista della progressiva diffusione in Europa della variante Delta. Si teme per il mondo della scuola, da lì i dati non rassicurano, anzi, in 223 mila tra personale amministrativo e docente sarebbero ancora senza nemmeno una dose. In ritardo anche la fascia d'età 60-69 anni. Si aprono dunque i dibattiti circa la possibilità di una obbligatorietà per le categorie interessate. Il Governo nazionale di fatti vuole evitare la DAD e il piano e puntare innanzitutto sulle somministrazioni volontarie. Il commissario Figliuolo ha indicato alle regioni di predisporre corsie preferenziali per i professori negli Amp. Più difficile al momento invece decidere anche la linea da seguire sui vaccini ai giovani e giovanissimi. Sul fronte delle forniture, nell'ultima settimana, il numero complessivo di dosi rese disponibili alle regioni e province autonome è cresciuto per un totale di oltre 63 milioni dall'inizio della campagna. Con De Libera Asrem, il direttore generale Oreste Florenzano ha dato il via libera ad un avviso pubblico a tempo determinato per due assistenti sociali a servizio delle USCA e due psicologi sempre a servizio delle USCA e uno per il potenziamento delle cure primarie, due figure essenziali in questo periodo per la lotta alla pandemia. Indecifrabile il futuro produttivo ed occupazionale alla ex fabbrica automobilistica Fiat a Termoli. Le opinioni tra una parte dei sindacati e la classe politica sono discordanti, ma ascoltiamole insieme. Da lunedì 12 la FCA di Termoli farà sapere ai sindacati il taglio dei dipendenti alla Stenlantis Fiat degli stabilimenti automobilistici di rivolta del Re per eventuali fuoriuscite volontarie. Le comunicazioni dell'azienda sulla nuova produzione di batterie nel Basso Molise non chiariscono per il sindacato SOA la confusione e l'assenza di un piano industriale. Lo stabilimento termolese è sempre stato produttore di cambi e motori, ma le politiche asiendali hanno preferito trasferire nel corso degli anni la produzione nelle nazioni dell'est Europa per l'abbattimento dei costi. Sull'onda degli incentivi sulle politiche energetiche, la Stenlantis crea effetti speciali sullo stabilimento adriatico, ma viste le prospettive il personale per le produzioni sarà inferiore all'attuale. Molte maestranze in questo periodo poi sono in cassa di solidarietà e trasferta, in attesa di produrre il motore elettrico. Se da un lato c'è una opportunità di allargare l'indotto e riadattarlo alle nuove tecnologie necessarie per costruire gli accumulatori, dall'altro c'è la necessità di capire cosa si produrrà all'interno dell'ex Fiat, commenta il politico del Movimento 5 Stelle Fabio De Chirico. È vero che il crescente mercato delle auto elettriche incentiverà la transizione ecologica, ma lo stesso non si può dire per la produzione delle batterie agli ioni di litio. Ancora non è chiaro inoltre se la fabbrica si occuperà del solo assemblaggio delle celle elettrochimiche oppure anche della produzione delle singole celle. La scelta di scartare lo stabilimento Mirafiori di Torino a vantaggio di quello termolese è legata a diversi fattori, ma la vicinanza di importanti aziende chimiche nello stesso nucleo industriale potrebbe aver avuto più influenza sui vertici di Stellantis. L'Ordine dei giornalisti ha iniziato questa mattina le lezioni formative sulla lingua dei segni e ad inaugurare la prima lezione nella sede di via 24 maggio a Campobasso il presidente e il vicepresidente dell'Ordine Vincenzo Cimino e Cosimo Santimone. Con questo ha detto Cimino valuteremo se ci sono le condizioni per andare nella direzione che mira a una formazione di una classe di giornalisti in grado di soddisfare le domande di informazioni per chi è in difficoltà. La vicenda dei licenziamenti della guardia giurate impegnate nel servizio di vigilanza al Consiglio regionale non ha trovato alcuna soluzione. Per questo motivo l'organizzazione sindacale Cobas ha proclamato una prima giornata di sciopero all'interno del settore. Ma vediamo insieme. Hanno tentato di tutto le guardie giurate che lavoravano alla portineria del Consiglio regionale e che nell'ambito del passaggio dell'appalto tra l'Istituto Aquila e la società subentrante e il Poliziotto Notturno si sono trovate senza lavoro nonostante il blocco dei licenziamenti ancora in atto e gli accordi propri del comparto. Dopo le riunioni in prefettura a Campobasso e i tentativi di accordo il sindacato che li rappresenta, il Cobas ha proclamato lo sciopero del settore per il 13 luglio con presidio davanti alla sede del Consiglio regionale. Quattro lavoratori che prestavano servizio presso la sede del Consiglio regionale come guardie giurate, dalla sera alla mattina il primo giugno si sono ritrovati licenziati. Questo imbarba a tutte le norme, le leggi, tutto quanto previsto per i cambi di appalto che nella vigilanza hanno anche delle caratteristiche particolari. Detto questo, noi ad oggi non abbiamo avuto risposte da nessuno due incontri in prefettura che non hanno portato praticamente a nulla una volta con l'Istituto Aquila al quale appartenevamo e l'altra volta con il polizotto notturno l'Istituto che è subentrato nella vigilanza della sede di via 4 Novembre. Detto questo, abbiamo proclamato uno sciopero per il giorno 13 con manifestazione davanti al Consiglio regionale proprio per far valere i diritti dei quattro lavoratori ma sicuramente per dare un segnale a tanti altri lavoratori della vigilanza che potrebbero ritrovarsi nelle stesse condizioni visto che le norme non sono state rispettate da nessuno dei due istituti. Un'area del territorio che costeggia il comune di Tufara ha preso fuoco per cause ancora di accertamento. La parte interessata è costituita per lo più da terreno incolto da macchia mediterranea e bosco. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato diverse squadre di vigili del fuoco che sono intervenute con cinque automezzi e due elicotteri presenti sul posto anche alcune pattuglie dei carabinieri e forestali. Da oggi è possibile attraversare la bretella che elude i lavori e i semafori lungo la Bifernina è destinata al traffico in direzione Campobasso mentre quanti procedono verso Termoli transiteranno nella corsia sul viadotto. Ma andiamo a vedere insieme. Primo giorno di stoppa e disagi soprattutto per questa estate per gli automobilisti che negli ultimi tempi attraversando il viadotto Molise 2 sulla fondo valle del Biferno erano costretti a fare lunghe file semafori che regolavano la circolazione a senso unico alternato in corrispondenza dei cantieri aperti da mesi sulla più importante arteria del Molise. Da oggi è aperta al traffico la bretella che permette una viabilità alternativa esterna. La suddetta è destinata al traffico in direzione Campobasso mentre quanti procedono verso Termoli transiteranno adesso nella corsia sul viadotto che resterà aperta. Per quanto riguarda l'altro viadotto quello sulla fondo valle interessato dai cantieri il Molise 1 l'ANAS ha annunciato in queste ore che la situazione comunque migliorerà a breve visto che dal 15 luglio al 15 di settembre i lavori saranno sospesi. In piazza Celestino V ad Isernia i rappresentanti di Volta Europa hanno incontrato la cittadinanza per raccontare il loro progetto politico ma ascoltiamoli insieme nel dettaglio. Riuscirete a vincere perché il Molise ha bisogno veramente di cambiare volto. Il punto è che dipende da noi e dipende da tutti gli sernini, da tutti i molisani. Noi siamo un gruppo di giovani che è tornato a Isernia soprattutto per la pandemia e abbiamo riscoperto la bellezza di questo territorio e tutto ciò che è questo territorio ad offrire. Siamo qui oggi con una rappresentanza di persone da tutta Europa da Berlino, da Francoforte, persone da Matera proprio per dire che Isernia ha tantissimo da offrire ma abbiamo bisogno di menti nuove e giovani forti che hanno voglia di portare avanti il nostro territorio in un'ottica europea. Ma bisogna anche assumersi delle responsabilità perché questa classe politica detta dei più non è che sia molto lungimirante anzi Esatto il problema fondamentale è stato che per paura di non assumersi determinate responsabilità la nostra città anziché andare avanti è tornata indietro e la cosa peggiore è che l'abbiamo vissuto con una normalità che è stata quasi devastante non è normale che io sia stata fuori 10 anni io sono andata via quando avevo 18 anni ne ho 28 adesso sono tornata e ho trovato la mia città peggiorata per la mancanza di coraggio di una classe politica di assumersi delle responsabilità e prendere anche dei rischi per poter portare avanti la città adesso noi avremo una quantità di fondi che arriveranno dall'Europa enorme il che implicherà sia saperli usare sia soprattutto saperli prendere qua sta la nostra responsabilità e la bravura delle nostre capacità essere in grado di poter prendere questi fondi e fare diserni a una città che sia a misura d'Europa cominciando da dove iniziando soprattutto da tutte quelle politiche per farci rimanere a noi giovani politiche che facilitino l'imprenditoria che riescano a riattrarre noi giovani nel nostro territorio politiche per le famiglie che vadano dagli asili nido a investimenti per noi giovani donne per poter aprire piccole imprese qui le politiche da fare sono tantissime il bello e il brutto del nostro territorio è che è vuoto quindi ha tantissime opportunità da offrire in ottica di turismo di impresa di sviluppo del territorio ma dobbiamo essere noi a poter tornare ad avere le condizioni per poter tornare così da farlo sviluppare l'Europa può portare a Isernia un futuro ricco di possibilità e invece l'Isernia può portare all'Europa la sua identità e la sua ricchezza di storia di cultura di gente domani pomeriggio nei vicoli del centro storico di Isernia si svolgerà la prima edizione della giornata internazionale del merletto evento previsto dalla Fontana Fraterna fino alla chiesa di Santa Maria delle Monache ma vediamo Carmela Iavarone le sue merlettai hanno preso la rincorsa non si fermano più? no no non si fermano più sono felicissime di partecipare a questo grande evento ne faremo di tante di più di eventi pian piano si farà tutto domenica le 5 si inizia questa giornata mondiale del merletto che è la prima volta che siamo uniti a tutto il mondo presidente quante persone sarete? in questo percorso ne siamo 62 63 però non possiamo dire il numero perché ogni giorno c'è qualcuno che vuole si aggiunge ne siamo tanti però di merlettaie proprio che stiamo realizzando l'albero siamo a 220 merlettaie parliamo con il professore Salvucci come sarà il programma? dunque il programma praticamente prevede un percorso che parte dalla fontana fraterna e arriva fino a Santa Maria delle Monache tutti nei vicoli come si faceva una volta ci saranno delle merlettaie a merlettare e anche a mostrare i propri prodotti di merletto comunque invitiamo tutti a partecipare a questo evento che è un evento internazionale che è la prima volta che ha questo successo a Isernia il Museo Internazionale delle Guerre Mondiali a Rocchetta al Volturno oggi ospita un evento culturale di spessore la presentazione del volume dal titolo Il quadro di Norma della scrittice romana Giuseppina Mellace una storia di una giovane ragazza travolta dagli eventi tragici della seconda guerra mondiale e dalla crudeltà degli uomini è presentato ad Isernia invece il libro Un nuovo Molise è possibile dove 22 autori cercano di immaginare un diverso sviluppo della regione ma guardiamo insieme ma questo Molise nuovo questo Molise che noi sogniamo come sarà? Come sarà nessuno lo sa ce lo dobbiamo ancora inventare il futuro non è scritto il futuro è nelle cose che noi faremo quello che riusciremo a fare a cambiare una realtà una realtà che ormai è una realtà statica è una realtà anzi addirittura in regressione abbiamo un dato fondamentale di riferimento è quello della demografia noi abbiamo il Molise è l'unica regione d'Italia che dal 1861 ad oggi è andata dietro come dato demografico cioè abbiamo una diminuzione complessiva della popolazione a questo punto c'è bisogno davvero di una svolta ma di una svolta radicale che non si basi più sull'assistenzialismo di tipo classico e sulla delega alle classi dirigenti alle classi che sono state i gestori del potere locale per conto di altri c'è bisogno che i cittadini molisani prendano in mano la situazione a partire da quelle che sono le peculiarità del Molise e quindi parliamo di un'agricoltura nuova di infrastrutture che colleghino in maniera diretta il nostro Molise al mondo intero c'è bisogno di un altro tipo di cultura ecco è questo che noi stiamo cercando di mettere insieme questi pezzi di Molise che vanno costruiti perciò noi parliamo di un altro Molise possibile ma direi soprattutto necessario è possibile veramente un altro Molise e come? Beh insomma se non fosse possibile sarebbe un disastro soprattutto per la capacità argomentativa analitica e argomentativa dei molisani noi abbiamo voluto dare un piccolo contributo insomma con l'edizione di questo testo che abbiamo editato in collaborazione con la CGL Molise e al quale hanno contribuito 22 specialisti di settore e c'è da Gino Massullo a Rossano Pazzagli a Letizia Bindi a Norberto Lombardi a Antonietta Caccia ad altri voglio dire ognuno nella sua competenza specifica ha cercato di definire in quale direzione si possa immaginare un altro Molise possibile e più auspicabile del disastro che ormai ci assedia ripeto insomma non ci sono articoli del New York Times o altri interventi sulla stampa nazionale in grado di lenire questa condizione di marginalità e di mediocrità insomma che attanaglia la nostra regione abbiamo bisogno di un'altra classe di leggenti che abbia un'idea plausibile auspicabile di futuro presentato il cartellone delle manifestazioni che si terranno quest'estate a Montenero di Bisaccia sarà un'estate all'insegna del relax e della cultura con numerose iniziative che copriranno un arco temporale che va dal 12 luglio al 30 di agosto con oltre 30 dati presenti nel cartellone e almeno 25 eventi differenti tra di loro a cui si aggiungono le attività estive dedicate ai bambini alcune delle quali sono già iniziate la località balneare abruzzese di San Salvo vede un incremento delle presenze turistiche rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso l'amministrazione locale presidenti e visitatori ha allestito un ricco programma di eventi per l'estate ma vediamo oltre 100 eventi distribuiti tra il centro storico la villa comunale e San Salvo Marina sono gli appuntamenti inseriti nel calendario delle manifestazioni estive presentati dal sindaco Tiziana Magnacca dagli assessori alla cultura e al turismo Maria Travaglini e Tonino Marcello e dal presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano il sindaco ha anche annunciato che il prossimo 27 luglio sarà presente a San Salvo il ministro del turismo Massimo Garavaglia per la consegna della bandiera blu agli operatori turistici e balneari siamo arrivati un po' lunghi quest'estate con il calendario estivo ma ce l'abbiamo fatta abbiamo atteso che i provvedimenti di fine maggio ci dessero il via e gli assessori che avevano già iniziato la programmazione hanno portato a compimento il calendario estivo un calendario che è soprattutto finalizzato a farci vivere con la leggerezza dovuta dopo tanti mesi di paure e di chiusure l'estate 2021 a San Salvo un calendario che incornicerà un'estate che sarà sicuramente piena di presenze turistiche così come ci raccontano i nostri operatori turistici che parlano di un pieno nelle prenotazioni per cui hanno il dovere di incorniciare con un po' di leggerezza con un po' di svago e insieme all'assessora la cultura con un taglio culturale l'estate san salvese San Salvo aspetta tutti aspetta i turisti aspetta i cittadini che anche da qui vicino vogliono venire a godere l'estate san salvese nelle serate più calde dell'anno con un calendario che è il giusto equilibrio tra desiderio di tornare a vivere in spensieratezza e l'obbligo che tutti abbiamo di pensare alla nostra sicurezza soprattutto alla sicurezza per la nostra salute anche quest'anno con tanto lavoro siamo riusciti a fare il calendario estivo come tutti gli anni abbiamo fatto il nostro meglio anche se arrivati un po' in ritardo ma a differenza di tanti altri comuni che non hanno messo in campo queste iniziative noi ce l'abbiamo fatta e con anche artisti di successo come vediamo sullo sfondo a partire da Massimo Ranieri e tutti gli altri che contornano questo manifesto sicuramente allieteranno i nostri ospiti i nostri vacanzieri tanti gli appuntamenti dedicati soprattutto al nostro centro storico e anche alla villa comunale teatro musica cultura in senso stretto libri l'invito è a venire nel nostro centro storico per fruire di questi appuntamenti per la nostra estate vi aspettiamo domani mattina nella villa de capo a campo basso si esibirà il tile brass quintet per l'appuntamento all'aperto di musica in villa il concerto è previsto alle ore 11 il quintetto chiamato a esibirsi nella villa comunale prende ispirazione dai canadian brass e nasce da un'idea di 5 studenti del conservatorio nel 2016 musica in villa andrà avanti fino a domenica primo agosto ma passiamo adesso alle previsioni del meteo la gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo cielo ampiamente soleggiato sul Molise prevalentemente stellato dalla sera le temperature odierne sono comprese tra i 21 gradi di campo basso fino alla massima di 30 di Sernia ventilazione settentrionale calmo il medio adriatico sulla regione domattina tornerà a splendere il sole valori climatici in rialzo correnti deboli di direzione variabile musica 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 apriamo adesso la nostra pagina sportiva con il campo basso calcio ormai ufficialmente in serie C la società guarda il futuro tra nuovi soci sponsor e campagne abbonamenti ma guardiamo insieme nel dettaglio dopo il via libera della Covisoc l'organo di controllo sulle iscrizioni nel calcio professionistico italiano il campo basso può ufficialmente festeggiare la sua partecipazione al prossimo campionato di calcio di serie C soltanto l'ultimo atto di un'intensa stagione che ripercorreremo insieme questa sera alle ore 21 sulla nostra rete e in contemporanea sulle pagine facebook e il canale youtube di TL Timolise un lavoro che affonda le proprie radici in tre anni di sacrifici acuiti da una pandemia mondiale e che ha inizialmente interrotto la corsa verso il traguardo che meritiamo fa sapere il presidente del club rosso blu Mario Gesuè che torna a parlare in pubblico dopo le accuse mosse nei suoi confronti dal socio di minoranza Mattrizzetta raggiunto lo storico traguardo però ora è tempo di volgere lo sguardo al futuro con il club adesso libero di potersi concentrare sul calciomercato al fine di costruire una squadra all'altezza del professionismo nel frattempo però i vertici societari non restano con le mani in mano e cercano di potenziare il club dal punto di vista finanziario tra ingressi di nuovi soci e la ricerca di sponsor ultima operazione in linea temporale parla proprio il gergo del marketing con l'onipresente Neuromed pronta a diventare nuovo sponsor rosso blu con un progetto legato ad attività di ricerca sulla prevenzione primaria e secondaria nello sport ma tra poco più di un mese è già tempo di calcio giocato perché il 13 agosto parte la Coppa Italia e il 29 si ricomincia con il campionato proprio per questo motivo il Campobasso ha già delineato la nuova campagna abbonamenti che verrà varata a partire da lunedì 13 luglio se quella dell'anno scorso portava il nome di ad occhi chiusi la campagna abbonamenti di quest'anno si chiama Come Together questo per sancire la dimensione collettiva del Campobasso non vista più come semplice società ma come codice identificativo di un intero popolo siamo in chiusura l'assemblea delle associazioni stelle, palme e collari d'oro al merito del CONI e del CIP ha eletto il suo rappresentante il professor Giuseppe Delia resterà in carica per i prossimi 4 anni nell'occasione sono stati consegnati alcuni riconoscimenti per meriti sportivi una stella d'argento all'unione bocciofila Monforte ed una di bronzo all'unione sportiva Acli di Campobasso ed era questa la nostra ultima informazione io come sempre vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi do appuntamento alle prossime edizioni arrivederci